Musica Finalmente dopo 47 anni il Ministero della Cultura attraverso la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo si dota di un catamarano dedicato alla ricerca archeologica subacquea e come barca appoggio per le indagini di censimento e di studio del patrimonio culturale subacqueo italiano. Inoltre questo catamarano è un laboratorio scientifico che ci permette di monitorare grazie all'Internet of Underwater Things, grazie all'Internet Subacqueo, vari siti archeologici subacquei in Puglia e in Italia in generale. Si tratta di un sistema che utilizza delle sonde acustiche che inviano i dati direttamente, grazie all'Internet Subacqueo, direttamente sul catamarano e quindi i nostri ricercatori possono leggere i dati ambientali. Questo sistema è stato messo a punto insieme all'Università Sapienza, alla WSense, una spin-off di ingegneri informatici. Inoltre abbiamo anche la possibilità di gestire delle visite subacquee che utilizzano tablet con realtà aumentata. Questo è possibile in Puglia nel sito di Egnazia e nel sito di Saturo e sarà possibile appena completato anche in altri siti italiani. È già possibile per Baia e sarà possibile anche per Crotone e per la Liguria, l'area marina protetta di Portofino. Il catamarano è costato circa un milione di euro e abbiamo fatto naturalmente una gara e questo ci ha permesso di selezionare uno dei migliori catamarani presenti che è dotato tra l'altro di varie apparecchiature tecniche che ci facilitano anche nell'attività di immersione. Per esempio abbiamo una pedana mobile a poppa che scende leggermente sott'acqua e che facilita quindi il riposizionamento a bordo delle bombole dopo l'immersione e che può aiutarci anche nel trasporto di attrezzature più complesse e anche quali per esempio uno scooter subacqueo oppure dei mini-ROV che potremmo utilizzare durante le nostre attività di ricerca. Grazie a tutti.